stiamo andando a cambiare i cerchioni al q7 comprato da poco avendo sette chilometri si vede un po male perché otto chilometri cos'è la mia ricerche perché questi non sono tanto belli secondo me siamo arrivati adesso giriamo a sinistra andiamo a cambiare i cerchi e modifichiamo anche un po la potenza a posto schiacciamola poi adesso schiacciamola sulla macchina schiacciamola facciamo livello 2 si poi motore a su a livello 2 a poi facciamo i cerchioni giù giù così a avanti avanti no questi no questi facciamo b per uscire adesso giriamo il q7 per vedere com'è e adesso facciamo una bella accelerata accelera si vede che cambia perché prima era un po piantato il q7 è sempre dritto accendiamo sempre dritto fino a quando non arriviamo a una certa velocità si vede e si sento io quando guido come sta cambiando infatti è cambiato prima il 180 ci arrivava in 20 secondi adesso ci arriva in 15 secondi